Musica Ci teniamo molto a farlo qua al maggior consiglio di Palazzo Uccare perché questi spettacoli anche di circo imperaneo raccolgono bene proprio la poesia qui abbiamo presentato Schizzo dal Marocco, questa artista che ha presentato Tic Tac che ha un lavoro sul tempo con questa struttura che ha un po' inventato anche questo palo cinese circolare che l'abbiamo aiutato per due anni all'interno di un progetto europeo che si chiama Art Public che lui ha costruito, ha disegnato questo progetto nuovo e l'abbiamo aiutato e siamo contentissimi di evitarlo qua a Genova come primo nazionale poi andrà in Svezia e in altri paesi in Europa e quindi è bello è un'occasione di presentare artisti internazionali all'interno del festival che è la nostra caratteristica e che è la caratteristica del circo contemporaneo dato che è più fisicità che parola ci possiamo permettere di evitare dall'Europa ma non solo dall'Europa e quindi Schizzo poi girerà anche Marocco, altri paesi, Tunisia eccetera eccetera ma non solo dall'Europa